Siamo alla terza parte dei quesiti analitici. Qui verranno considerati i quesiti non numerici presenti nel terzo fascicolo dei vostri appunti. Come nei due casi precedenti, sarà opportuno leggere attentamente il testo, fare molta attenzione alle richieste che vengono proposte, considerare l'eventuale interferenza presente e infine le quantità assolute relative dell'analita presente nel campione. Primo quesito riguarda le materie plastiche, i polimeri, viene richiesto di descrivere le tecniche analitiche principali per caratterizzare i materiali polimerici e poi descrivere alla razione di sintesi un polimero liberamente scelta. Per quanto riguarda le tecniche analitiche, possiamo ricordare la viscosimetria, a cui abbiamo solo fatto un cenno. In ogni caso dovreste sapere che permette di valutare la distribuzione di pesi molecolari del materiale. Eventualmente qui si può accennare alla curva di distribuzione del polimero e al suo indice di dispersione. Le tecniche invece vere e proprie di caratterizzazione sono l'infrarosso, l'FTR, l'FTATR, quest'ultima specifica per le pellicole sottili. È richiesta una sommaria descrizione di queste tecniche e infine scelta una reazione di sintesi di un polimero, la si deve scrivere e commentare. Nel quesito numero due si parla invece della sperimentazione di un farmaco. Quando si fanno queste sperimentazioni si analizzano i metaboliti presenti nelle cave di laboratorio, allo scopo di testare l'efficacia e la non tossicità di questo farmaco. Questo metabolito viene estratto e viene richiesto di proporre una tecnica analitica per determinarne la struttura. Tenendo conto che c'è poco campione, per giunto è anche molto diluito l'analita. Pochi microgrammi litro, quindi abbiamo a che fare con analisi in tracce o addirittura ultratracce. Siccome richiesta la determinazione strutturale del metabolita, siccome ce n'è pochissimo, è chiaro che la tecnica utilizzabile non può essere altro che la spettrometria di massa. Occorrerà quindi rassumere i principi generali e come, una volta che è stato ricavato lo spettro di massa, è possibile ricavare la struttura, cioè fare quella che si chiama elucidazione strutturale del composto analizzato. Magari si può anche accennare le tecniche di massa copiata. Quanto riguarda il quesito numero 3, si parla di combustibili fossili, è noto che questi hanno un forte impatto ambientale e tra gli inquinanti a maggior impatto c'è lo zolfo che è presente in diversi tipi di combustibili, sia pure in minima quantità, ma tenendo conto delle enormi quantità di combustibili fossili che vengono bruciate, la quantità di ossidi zolfo scaricati in atmosfera chiaramente è rilevante. Viene chiesto di indicare una tecnica analitica per determinare i composti solforati presenti in un derivato petrolifero leggero, come ad esempio la benzina. Ricordo che la benzina e gli altri distillati leggeri vengono comunque sottoposti a trattamenti di desolforazione, ma in minima quantità questi prodotti si trovano comunque nei prodotti commerciali. Allora, abbiamo a che fare con una miscela di composti organici volatili, quindi evidentemente la gas liquid cromatography sarà la tecnica ottimale. In alternativa si può anche utilizzare la HPLC, anche questo è sicuramente adatto al caso prospettato. Una volta scelta la tecnica si deve poi accennare ai principi generali della tecnica prescelta e al suo campo di applicazione. Nel quesito numero 4 si accenna ai processi biotecnologici, come per esempio i processi di fermentazione. Viene chiesto di illustrare una tecnica di controllo di un processo biotecnologico per valutare la quantità di prodotto utile ottenuta nel tempo del processo fermentativo. Si ipotizza che questo prodotto contenga un anello aromatico. Nel caso che l'analita contenga appunto un anello aromatico, come ad esempio nel caso di alcuni antibiotici, è chiaro che sarà richiesta la sua determinazione quantitativa. Nel tempo sarà necessario analizzare il brodo di coltura e valutare l'accumulo di questo prodotto nel brodo, fino a capire quando il processo è terminato e quindi si potrà scaricare il prodotto ed estrarre l'antibiotico. Dato che è un anello aromatico evidentemente contiene un cromoforo, per cui la tecnica più adatta sarà la spettrofotometria ovivisibile. Quindi si può accennare ai principi di questa tecnica, si può accennare alla relazione tra cromoforo e assorbimenti molecolari ed eventualmente alle tecniche di quantificazione del segnale, mediante i ben noti standard esterno e standard interno aggiunte multiple. Il quesito numero 5 si ha il testo di un esame di Stato esattamente stato adattato dall'esame di Stato 2016, in cui si recuperava un prodotto di interesse con una volatilità nettamente superiore a quella della miscela attraverso stripping. Quindi veniva chiesto di ipotizzare una tecnica analitica idonea a determinare qualitativamente e quantitativamente il prodotto di interesse, nel quale si specifica che comunque non è puro ma presente in purezza in traccia. Quindi venivano anche richiesti i principi sintetici della tecnica scelta. Il ragionamento che si può fare è il seguente, viene specificato nel quesito che il prodotto di interesse non è puro ma contiene impurezza seppure in traccia, quindi una miscela. Siccome viene recuperato mediante stripping avrà una modesta volatilità, per cui sarà improbabile una volatilizzazione del campione totale, per cui converrà utilizzare una tecnica di quantificazione che non richieda volatilizzazione del campione. È ovvio che la tecnica più donna sarà la HPLC. Occorrerà quindi riassumere i principi operativi, la motivazione della scelta, le tecniche analitiche e magari un accenno alla separazione isocratica e al gradiente di diluizione con relative differenze, vantaggi e svantaggi. Per quanto riguarda il sesto quesito, ancora una volta si fa riferimento ai processi biotecnologici, in particolare si parla di antibiotici. Molti antibiotici vengono ottenuti attraverso processi di fermentazione. Viene chiesto di descrivere i principi generali di una tecnica che permette l'analisi degli antibiotici estratti selettivamente alla brodo di cultura, al termine della biosintesi. Abbiamo già avuto modo di dire che molti antibiotici contengono cromofori, anelli aromatici, dopilegami, eteroatomi, e quindi questi cromofori garantiscono un assorbimento, soprattutto nell'ultravioletto, della luce grazie alle famose transizioni pi greco-pi greco-sterisco e n pi greco-sterisco, per cui la spettrofotometria ovivisibile può essere utilizzata come tecnica analitica. Però, attenzione, bisogna che il campione sia puro, quindi deve essere stato già estratto selettivamente. Se al contrario questa estrazione selettiva non è del tutto possibile, o comunque non si ottiene un composto puro, allora in questo caso dobbiamo rivolgersi all'Hplc, magari in gradiente diluizione, per favorire la separazione dei diversi componenti del campione. Viene poi richiesto di descrivere i principi generali della tecnica scelta. Il quesito numero 7, si analizzano in un laboratorio delle proteine, vengono idrolizzate e si frammentano in amminoacidi. Si chiede di individuare una tecnica che permetta la separazione e la caratterizzazione degli amminoacidi, tenendo presente la loro possibile dissociazione, visto che gli amminoacidi è noto che possono presentarsi in varie forme a seconda del pH. Vengono poi richiesti i principi, sia pure in modo sintetico, i principi generali della tecnica ipotizzata. Allora, evidentemente la separazione e la caratterizzazione deve essere fatta mediante tecnica cromatografica. Viene sottolineata la presenza possibile di una carica elettrica sull'amminoacido, sugli amminoacidi, perché si dissociano in varie modi a seconda del pH utilizzato. Quindi si potrà utilizzare un tipo specifico di separazione cromatografica, come la IEC, Ionic Exchange Cromatography, cioè cromatografia ionica, perché è proprio la tecnica di cromatografia liquida che serve a separare analiti ionici. Vengono richiesti i principi generali, quindi si dovrà parlare di resine scambio ionico, meccanismi di separazione, apparecchi, eventuale uso di tamponi e di regolatori di forza ionica e poi, in conclusione, la necessità negli apparecchi più efficienti di procedere alla soppressione ionica degli ioni in eccesso. Nel quesito numero 8 si deve analizzare un veleno di serpente. Dovete sapere che i serpenti utilizzano delle tossine molto potenti, che in genere sono delle proteine. Lo scopo è preparare un antidoto. Si estraggono con solvente selettivo queste tossine e quindi si otterrà una miscela. In genere sono numerose le tossine che ogni specie di serpente utilizza. Quindi avremo una miscela di molecole ad alto peso molecolare. È necessario ipotizzare una tecnica, descrivendone poi il funzionamento, che permetta di caratterizzarle dal punto di vista strutturale, perché solo così si potrà preparare un antidoto. Il problema naturalmente qui è complesso, perché dobbiamo analizzare miscele di molecole ad alto peso molecolare, per cui l'unica tecnica che può avere un significato sarà la spettrometria di massa. Quindi occorre accennare i principi essenziali della tecnica, i metodi di frammentazione, specialmente per le molecole con massa più elevata, accennare alle caratteristiche dello spettro di massa e a come viene interpretato per fare quella che si chiama l'elucidazione strutturale, cioè determinare la struttura della molecola organica. Attenzione però che avendo una miscela o riusciamo a separare le singole proteine e allora le possiamo analizzare una alla volta. Se questo non fosse possibile, la tecnica di massa, pure semplice, non sarebbe efficace, perché nello spettro di massa avrei la somma di tutti gli spettri di massa delle molecole presenti. Quindi in questo caso sarà opportuno, in caso in cui non fosse possibile la separazione, utilizzare una qualche tecnica di massa accopiata, per esempio la HPLC massa o la massa-massa, cioè la tandem mass-spetroscopy, proprio perché in questo caso abbiamo una miscela. È ovvio che il primo apparecchio fa la separazione, il secondo apparecchio fa l'analisi di ciascuna sostanza che si presenterà uno alla volta allo spettrometro di massa. Per quanto riguarda il quesito numero 9, si parla di catalisi e catalizzatore metallici. Il catalizzatore metallico manifesta un'attività catalitica inferiore a quella sperata. Si ipotizza la presenza di impurezze in tracce, quindi magari altri metalli che rendono meno efficace il catalizzatore. Viene richiesta una tecnica analitica che permette di individuare le impurezze e di determinarle anche quantitativamente. Per concludere, una breve descrizione dei principi generali di questa tecnica. Questo è ispirato dall'esame di Stato 2012. Naturalmente possiamo ipotizzare che gli elementi chimici estranei nel catalizzatore siano a loro volta dei metalli e filtrandosi nel reticolo cristallino in qualche modo ne modificano i siti attivi e quindi ne riducono l'attività catalitica. Dato che abbiamo una miscela di sostanze, anzi di elementi chimici, l'ideale sarà una tecnica multi-elemento, come ad esempio l'emissione al plasma con tecnica ICP che ci permetterà di fare sia la qualitativa sia la quantitativa attraverso tutta una serie di procedure analitiche che dovreste conoscere bene. Queste tecniche analitiche andranno opportunamente spiegate per rispondere alla domanda e anche come può essere quantificato il segnale con i soliti meccanismi di trasformazione del segnale nella variabile chimica, cioè nella concentrazione. Per concludere, l'ultimo quesito, il decimo, fa riferimento all'analisi di un prodotto argilloso. Dovete sapere che per produrre un cemento si mescolano argille e altre componenti. Quindi abbiamo un cementificio che sta studiando un innovativo cemento a presa rapida. L'argilla però è un prodotto molto balordo da analizzare perché è un silico illuminato ed è particolarmente resistente all'attacco dei normali reattivi. Quindi è necessario fare un attacco del campione molto aggressivo e poi una volta che è stato solubilizzato viene anche chiesto come faccio a analizzare il silicio presente nel minerale visto che si tratta di un silico illuminato. Bene, per quanto riguarda l'attacco del campione è chiaro che dobbiamo ricorrere, come detto prima, a tecniche estremamente aggressive. Possiamo pensare alla fusione alcalina o la mineralizzazione per via umida in forno a microonde o in bomba. Quindi in condizioni particolarmente drastiche. Queste tecniche sono riportate nel fascicolo il processo analitico. Una volta che è stato attaccato e portato in soluzione possiamo analizzare i singoli componenti. Nel caso del silicio, dato che il silicio si comporta come il fosforo, non per niente sono nella stessa colonna del sistema periodico, come lui potrà essere determinato col metodo spettrofotometrico al blu di molibdeno. Quindi il reattivo molibdico, in questo caso silico molibdato d'ammonio, e poi riduzione al blu di molibdeno con vitamina C, cioè acido ascorbico. Occorrerà accennare rapidamente a questa analisi. e poi riduzione al blu di molibdeno